In più occasioni è stato criticato. Diverse volte in campo non ha raggiunto la sufficienza ed è stato protagonista di prestazioni non all'altezza. Ma il difensore centrale brasiliano del Catania, Gil Drauzio, non si è mai arreso né demoralizzato ed ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Lo ha fatto anche domenica al Massimino in occasione del derby contro il Siracusa, dove non solo è stato uno dei migliori in campo, ma ha anche trovato la sua prima marcatura con la maglia del Catania. E' lui, il personaggio della settimana, in casa rossa azzurra. Esultanza particolare e rabbiosa per lui che, battendo in quel modo la mano sul petto, ha dimostrato di tenere alla maglia che indossa e di volerla onorare ogni volta che scende in campo. Contro gli Aretusei ha dovuto abbandonare il terreno di gioco anticipatamente per via di un problema alla gamba che si porta dietro dalla gara contro il Cosenza. La fiducia e la ricarica ritrovata grazie alla prestazione e alla rete messa a segno domenica, ma soprattutto le tante defezioni in difesa del Catania, fanno di Drauzio un elemento fondamentale in vista della gara contro la casertana, che tanto sa, di spareggio playoff. Per questo motivo lo staff medico rossa azzurro sta lavorando sodo per cercare di renderlo disponibile al tecnico Giovanni Pulvirenti, che a Caserta non vuole fare a meno del suo nuovo leader difensivo.